Immaginate una flotta di robot a guida autonoma in grado di ottimizzare i flussi di lavoro, aumentare la produttività e ridurre i costi. E se fosse automatizzata al 100% e potesse collaborare con gli operatori? E se fosse facile e veloce da integrare in qualsiasi tipo di ambiente industriale? Sembra qualcosa che proviene dal futuro, vero? In realtà non lo è. Permettetemi di presentarvi i robot industriali mobili della Mir, una soluzione efficiente e flessibile di robot industriali. Come funziona la flotta Mir? Diamo un'occhiata. Qui l'operatore vorrebbe inviare l'articolo su cui appena ha finito di lavorare alla successiva linea di produzione. Semplicemente premendo un bottone si chiama il Mir. Una volta che il bottone è stato premuto, un segnale viene inviato al software della flotta Mir. Questo software lavora dietro le quinte e gestisce i robot Mir. Il sistema fornisce le istruzioni al robot più appropriato affinché questo si sposti verso il punto sorgente. L'articolo viene quindi posizionato sul robot che è pronto ad andare verso la sua destinazione. Il robot si muove in maniera autonoma al 100% e può evitare facilmente gli ostacoli che incontra lungo il suo cammino. Il software di gestione flotta regola automaticamente il traffico in tempo reale, garantendo che tutto scorra in maniera fluida ed efficiente. Ora il robot ha consegnato l'articolo alla sua destinazione. Se non c'è altro in coda, il robot può essere programmato per sostare nell'area di parcheggio prescelta e ricaricarsi. Il robot può essere gestito anche via tablet, con sistemi di comunicazione automatica della linea di produzione o con il vostro sistema ERP. Avete persino la possibilità di creare degli ordini urgenti che si collocano all'inizio della coda di richieste. Dato che i robot si muovono autonomamente, possono effettuare manovre complesse, come spostarsi su diversi piani. Se un robot incontra un ostacolo che non può girare, viene inviata automaticamente una notifica all'utente, indicando una richiesta di intervento. Quando l'articolo ha raggiunto la sua destinazione, il robot invia automaticamente una notifica. Gli accessori installabili sul piano del robot sono facili da cambiare, quindi il robot può essere reimpiegato per diversi compiti. I robot MIR offrono la soluzione ideale per automatizzare la logistica e trasporti interni. Programmare il MIR è facile. L'interfaccia semplice e intuitiva garantisce un'implementazione semplice e senza complicazioni. Avete inoltre un pannello di controllo personalizzabile che vi consente di adattare l'interfaccia ai vostri bisogni individuali. Noi di MIR sappiamo che il layout di un'azienda cambia velocemente. Ecco perché abbiamo reso semplice riprogrammare i percorsi. Pochi clic e siete pronti a partire. MIR è una delle compagnie maggiormente in crescita nel settore dei robot collaborativi e le nostre soluzioni vengono utilizzate in tutto il mondo aiutando le aziende ad aumentare la produttività, la redditività e ad ottimizzare i flussi di lavoro. Contattateci oggi e scoprite come possiamo aiutarvi ad automatizzare il layout della vostra azienda. MIR Robots trasporta qualsiasi cosa ovunque.